5 ori, 10 argento e 7 bronzi, insomma una pioggia di medaglie per il centro Taekwondo Arezzo e la NRG Taekwondo Arezzo al Toscani Open, il campionato interraggionale che ha colto al Palace Sport Mario D'Agata 109 società provenienti da 16 regioni per un totale di 1000 atleti in gara. Abbiamo avuto la giornata di sabato con l'alto livello, abbiamo avuto le maggiori categorie in gara pronte per il prossimo campionato italiano che ci sarà tra tre settimane ad Ancona e quindi era un ottimo test per gli atleti di alto livello per confrontarsi prima del campionato italiano. Per il centro Taekwondo Arezzo e la due giorni si è conclusa con un ottimo bilancio, tre medaglie d'oro conquistate, 7 d'argento e 4 di bronzo. E' andata piuttosto bene tra la giornata di sabato e domenica, i nostri ragazzi si sono dimostrati all'altezza di tale evento conquistando anche medaglie davvero ambite e davvero complesse dal punto di vista agonistico. Quindi diciamo che siamo molto soddisfatti del lavoro che io come tecnico ma anche dei ragazzi come atleti che stiamo svolgendo e questo Tuscani ci porterà, magari speriamo che ci porti successo per le prossime gare future. Eccellente è anche il bilancio per la NRG Taekwondo Arezzo che firma il suo Tuscani Open con due medaglie d'oro, tre d'argento e tre di bronzo. Tanti ragazzi sono andati a podio, chi non è arrivato ha comunque vinto almeno un incontro, siamo soddisfatti di quanto stanno facendo. La platea è incredibile, stiamo lavorando benissimo quindi ottimi segnali.